Sono qui imbecille, hai le tue spalle Ma vabbè Cosa stavi cercando? Io ti cercavo in alto Qui c'è un lasero Un lasero? Dammi il cubo E prenditelo ormai Dammi il tuo cubo Non ti do il mio cubo Dove lo defletti? Aia Ah queste cose qua Ammazza la gente Volevo provare Vengo Era anche per gli spettatori Che volevano vedermi Fritto in mezzo a quei cosi Vai a direzionare il laser sul mio portale blu Allora prendiamo il cubo E poi scappa perché ti schiacceranno Aia Che succede? Cosa non comprendi della parte Scappa in fretta perché ti schiacceranno Cioè non riesco Non so Cioè Se dimmi qualcosa vai No sper Oh Ok Allora Ridirezionalo in fretta grazie Perché hai preso il cubo? Ho detto ridirezione al laser A volte mi chiedo qual è la tua disfunzione Disfunzione renale Dai in fretta che tra poi ti schiacciano di nuovo le bocche Però Allora Tu per direzionare Per girarle basta Cos'è che fai? Ci metti il cubo sotto E poi giri il cubo E allora scappa Ti spaccano Scappa E allora scappa 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 E stavolta ha preso te Non sono scappato io Il cubo ridirezione al laser Devi mettere il cubo sotto al laser E il gioco è fatto Tenendo in mano il cubo Se tu giri il cubo Gira anche il laser Guarda che ritardamento sale Che da volte qual è la tua massima disfunzione Ok adesso fermo qui Fermo qui Fermo qui Fermo qui Fermo qui Ora vedi come lo sto L'ho ridirezionato Se Ora cosa che tu puoi più Lo muovi di appena 2 cm Proprio piccoli piccoli Aiuto Cristo Sato A volte il tardo mentale non ha limiti Isso Bara Ok Adesso Adesso Te l'ho reso ancora più facile Te l'ho reso più facile Adesso Fermo qui Fermo qui Fermo qui Giuri stai muovi Ti ammazzo Allora Sì Allora Ora Basta che vai lì E premi E Dietro il cubo preferibilmente Premi E Ha premuto Nemmeno quello sai fare Nemmeno quello sai fare Ridirezione nel portale Scappa 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 ora stai immobile lì ok? non muoverti neanche se dovessi morire vai sul cubo uffa guardiamo te cosa succede? sto salendo sto per morire esci veloce scendi dalla piattaforma scendi dalla piattaforma in fretta si? hai detto di scendere oh mio dio Iarno vieni qui stai per morire scappo ecco sei morto possibile che non ti sei voluto con gli altri? non ti sei voluto con il resto della gente sono un robot io tu stai qui portandoti verso il muro così se quella comincia a saldire e vedi che puoi scendere tu scendi ok? comprendi? anzi no allora non lo dici allora stai facendo sentito lasciami pensare devi pensare e se ce la fai si ok penso di aver compreso questo lurido ok 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 fai il portale qui portale qui ok ora ora no no è sbagliato fai il portale qui no dove cazzo lo fai? qui doveva prima qua ok ora salirai no andrai su si appena sei alto abbastanza devi lanciare e entrare in questo portale giallo va bene ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare volo hai sbagliato hai sbagliato cosa ho sbagliato non è non è pulito perché hai trovato il pavimento si è fermato e poi sei sceso si si no hai ragione ma il fatto sta che hai sbagliato si pensavo di essere di entrare perfetto tranquillo ce la posso fare ecco adesso è giusto ok e perché sono andato qua ah dove sei andato ah sono oltre i cosi dove sei oltre le cose che schiacciano mi hanno mandato bene ok ti vedo eh vedi che sono qua in fondo mi hai citato da parte mi hai citato da parte analizza il territorio allora qua c'è un tram per me fai in portale rosso fai in portale rosso ecco che qua c'è un trampolino fermoli dove sei whoops ok ce la posso anch'iovi vedi un pochino proprio poco poco di intelligenza e ce la fai la facciamo la facciamo vedi ce la facciamo ce la facciamo dai dai proprio poco non chiede molto di astuzia di un genio allora là c'è un coso bravo devi andare in fretta beh c'è una parte da portare no rifallo si e ci sono te non so non trovo nulla non so beh se c'è nulla che possa aiutare la nostra fuga ok allora eccomi di ritorno hai preso un cubo hai preso un cubo si non sei per spiccate mi prendi per il cubo pensare a come fare cadere quello schifo di cubo su quello schifo di portale sullo schifo di tampolino quindi dobbiamo gettare il cubo allora il cubo lo facciamo cosare qua e poi dall'alto lì così così e il cubo lo getti lì beh vuole fatto meglio ma il principio è quello vuole fatto meglio non è quello il principio vieni qua eh ok appena si apre devo correre si 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 via voilà no no ma l'avevo capito comunque l'avevo capito si ma avevi sbagliato perché beh perché se rimanevamo là davanti non facciamo in tempo con la con la porta però ho capito il concetto anche io il concetto è quello lì di mettere il cubo sopra il trampolino non è cosa difficile sai sai è il come è il come Yarno vinco davvero in tutti i campi vinco davvero in tutti i campi dai che andiamo dai sì sì